Se questi enti sono stati partecipati, se questi enti sono stati partecipati, se questi enti sono stati partecipati, rilevano per rivelare una perdita costante, rinnovatasi, tu devi uscire o sottoporre l'invitazione appena il fatto che non ci può mettere un euro. Indipendentemente da fare stessi anni, non ce lo può mettere. La legge regionale che disciplina la partecipazione della regione al corso in fondazione, è una legge, io lo defino con termine forte, mettiamola così, la volontà era anche positiva, però là sta scritto senza una maniera carica con il bilancio regionale. Cioè la regione partecipa alla fondazione senza una maniera carica con il bilancio regionale. Perché si fece così? Proprio perché, a mio giudizio, gli uffici, allora, a chi comprensionano la legge, chiedero un giudizio di impossibilità a stanziare delle risorse finanziarie. Questa è la fotografia che coincide, più o meno, con la fotografia del professor Frattori. Che cosa abbiamo fatto? Una delle primissime cose, prima della nomina del professor Frattori, io ho chiamato, convocato tutte le direzioni della regione Andoruzzo, il 19-19, e gli ho detto, guardate, c'è il mare legno sul. Che possiamo fare? Che cosa di cui abbiamo bisogno noi che andiamo a prendere fuori e che invece possiamo far fare al mare legno sul? Oltre alle lezioni c'era l'atta e c'era l'agenzia sanitaria reggiana. Tutti convocati. Possiamo sapere, ognuno di voi, quale fa bisogno scientifico, di servizi che il mare legno fa, che invece di andare alla barriera del mercato, non vi facciamo fare, semplicemente, dando delle commesse, anche piccoli di lavoro, man mano, per cercare, come dire, di far ripartire un po' la macchina per quello che si può. Perché quale fu la conclusione dell'altore del bilancio? Se la differenza è 6 milioni di entrate, 3 milioni di uscite, intanto dovresti tagliare 3 milioni di uscite per pareggiare, ma anche da parte di entrare. E ora, da parte di entrare, ho detto, come si stesse le pietre. E c'erano anche alcuni del mare legno a quella lì. Ci fu un giro tra tutte le direzioni, tra l'agenzia sanitaria, l'Ap. Il primo problema è che si può scoprire un problema tecnico. Le altre, anni fa bisogno, ma possono affidare direttamente il lavoro del mare legno? No. Sotto soldi. Possono affidare un milione di euro, di milione, che pure di cui hanno un bisogno, lo possono fare? No. Ci fu la gara. Non è detto che il mare legno non la vincla, sia chiaro. Ma quella riunione arrivò a queste conclusioni, circa la difficoltà di affidare direttamente al mare legno queste cose. Mettiamo caso, per esempio, è anche facile fare una votazione, però facciamo anche questo. Fosse stata una società, l'avremmo resa tutta pubblica. L'avremmo resa tutta pubblica, dunque, in house. Potevamo affidare direttamente le commesse di lavoro alla società tutta pubblica in house? In house significa che lo controllano la legge regionale? Sì. Però c'era un problema a pregresso. No? C'era un problema a pregresso. E ciò è una massa di pittoria da coprire. Il presidente D'Affonso, in conferenza delle regioni, con le regioni del centro-sud, apposta ai presidenti del centro-sud Italia, il tema che il mare legno si chiama Sulti, non a caso, in Abruzzo, ma perché c'è un mare legno che, insomma, dovrebbe servire regione, ma il mare legno dovrebbe essere a disposizione. C'è una delibera di giunta, delle macche, che fa un accordo con le varie legno di Sulti. Sulti. E dice, per il piano epidemiologico, se non è vero. Io ce l'ho sfruttato. Ma quella delibera di giunta dice, senza oneri, per la regione, e man mano che si creano commesse, oppure noi dovevamo fare una delibera del genere, però sarebbe suonata con il clima, diciamo, che c'è, come, diciamo, un cerotto che non fermava la ferita. Dicevo, per esempio, ha posto e ha chiesto alle regioni del Centro-Sud anche il fatto, se anche loro, perché tante cose piccole potevano fare, no, possono fare una risorsa importante. Però, nel momento in cui arrivano alla gestione del professor Fratocchio, il professor Fratocchio, in cui i soldi, ci deve pagare innanzitutto le spese obbligatorie. Fratocchio, per esempio, il professor Fratocchio ha l'esigenza di pagare il turco, di mettersi a posto con il turco, perché, se no, si blocca anche la possibilità dei finanziamenti nazionali, non nazionali, europei, di attivare, eccetera, eccetera. Così come è una semplificazione di chi sostiene che, siccome ci sono i fondi comunitari, il maromeno che partece, prende i fondi comunitari. E l'altro pezzo, i fondi comunitari non finanziano un cento per cento, con i fondi comunitari finanziano un quota parte. Qualunque sia la quota parte a carico, il numeramento, c'è un tema di, come dire, di metterci quelle quote. Quindi, è chiaro che la situazione che si è andata a prorogare, che è arrivata al commissario, vi rubo anche i cinque minuti. Noi abbiamo avuto le primi drammatiche. Io ho partecipato a due consigli di amministrazione. Per fortuna mi sono portato tutta la struttura regionale, l'avvocatore regionale, il direttore del bilancio, di ragioneria, tutti, in modo che mi hanno aiutato, non solo a leggere quei dati, ma a verbalizzare esattamente tutto ciò che io avevo ricostruito e che so che la struttura commissaria era elettrica. Per mettere un punto, perché quando si parla di decisioni assunte, ma poi non fatte, stabilendo un tema di chi dovesse fare, cioè realizzare quelle decisioni, lì a verbalizzare, si è chiarito chi doveva fare questo. Un altro mio consiglio di amministrazione, dove abbiamo solo dare il bilancio, ma non abbiamo potuto ripianare le perle, perché la corte dei conti, il frattempo intervento ci ha detto non puoi ripianare le perle. L'ha detta a me, l'ha detta a me, a me non cammino, a me è ragione, che l'ha detta a me. Ma l'ultimo non era ancora presente della provincia. Si arriva poi alla presidenza Pupillo e il tavolo si sposta alla prefettura. Alla prefettura il marionetto si è presentato con delle gare di Milano. Legittime. Sembra che c'è un'opertura, una roba. E lì hanno chiesto la liquidazione della società. Un po' anche riducendo le motivazioni del genere. Se continuiamo ad andare avanti così, aumenti il debito e non riusciamo a risolvere. Quale sarebbe la soluzione, secondo loro? È che il Marimegri metteva un milione di euro, la regione un milione di euro, la provincia un milione di euro, questo è stato detto e ripetuto per varie consigli di amministrazione, uno, 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 e anche laddove si fosse potuto fare, cosa che non si è fatto, il minuto dopo, punto da capo, la conclusione dell'anno, stante quelle entrate, stante quelle uscite, si ristabiliva una partita circa di un teore o tre milioni. Tra l'altro la provincia, allora per esempio il Cepantone, a cui confermare la pupilla, io non posso, sto in base a 3.7, non posso mettere soldi, tra l'altro poi c'è stata un'evoluzione della provincia, e quindi quel caro sarebbe dovuto ritornare in caro alla regione che da un lato è impedita giuridicamente a farlo, da un lato c'è un problema finanziario, non è che non ce l'ha, ma scansione il tema delle risorse finanziarie è impedita nell'intervento di ripianamento delle perde, tant'è vero che ogni volta che la regione ha intervento di ripianamento delle perde, che poi deve essere utilizzata con la legge regionale, legge regionale che puntualmente viene impugnata dalla Corte Costituzionale, sapete la storia dell'aeroporto, l'abuso ogni volta che abbiamo fatto una legge di ripianamento delle perde, o comunque che assomigliamo a Nello Sergio, c'è stata puntualmente bloccata, tanto perché l'aeroporto del brusso deve restituire per precedenti darsi 5 milioni di euro alla regione Augusto e che gli era la del momento di dare, è cambiato il mondo e non si entra nel merito che una cosa è l'aeroporto, una cosa è l'acqua, la sanguicana, una cosa è la ricerca, cioè quello che vi dite voi, purtroppo la norma non entra nel merito della qualità e delle ragioni per le quali le risorse vanno a finanziare così. E in maniera di risulta lì ha ipotizzato la liquidazione per la impossibilità di ripianare questa situazione di aprire una nuova stagione con un altro soggetto nuovo, quindi portando in liquidazione questo noi abbiamo detto chiaramente di no, che non, che intenevamo questa una cosa peggiore per i lavoratori, per i ricercatori, eccetera, eccetera, e quando il reattore è arrivato, e il prefetto è arrivato alla determinazione della liquidazione e a quel tavolo abbiamo chiesto ribadito più volte la terzietà del commissariamento. Cioè abbiamo chiesto una propria di un commissario autoregola, scelga lei, che sia terzo dalle vicende, dalla storia, dalla gestione del mare di risulta. In quel tavolo, Mario di risulta aveva rappresentato l'opportunità, secondo loro, invece di avere una figura interna perché conosceva la storia, ma invece noi conosciamo uno terzo, che appregga tutto in modo esterno, non perché non ci si chiedi, ma perché credo che quando c'è un commissario anzio, una posta di ricerso, stanno consumando decisioni, sia necessario e non possibile che ci si metta uno del militare, non ci si mette una figura interna, è dipendente anche dalla professione interna del militare, non è quella di risulta. Era una necessità che consente la libertà al commissario di farci la fotografia di Chietosa. Allora io sto a quello che dice Giovanni Difonso, consideriamoci convocati in seduta per me, mentre venendo qua, in queste ore, con l'assessore Poglucci, con gli altri, c'è un problema vero. Adesso faremo un incontro con il commissario, con i centri commissari. Vedremo un incontro di direzione per direzione, vediamo se da quella iniziativa assumita possa emergere qualcosa. Però io credo, per essere onesti e reali, che non credo che ci siano commesse tali da poter far respirare un po', o meglio, farlo solo respirare, ma che poi il commissario si trova a dover gestire quelle commesse per le immediate emergenze giuridiche che loro devono ammettere prima una parte rispetto ad un'altra. Per esempio, i contributivi, se non paghi, sono antepenali delle questioni. Quindi ci sono tanti effetti a riflesso. L'alternativa a questo lo si possono immaginare quando si ipotizzerà e si determinerà e si arriverà alla conclusione che non ci può non essere che un'alternativa. E su questo noi ci riteniamo impegnati a immaginare eventualmente un altro contenuto contenutore che possa salvaguardare il patrimonio di conoscenze, di lavoro, di ricerca fatta qua, perché non scompare il mare medio. Ma è chiaro che è l'ultima questione che ci poniamo, ma per essere realisti fino in fondo, è una questione che sta sul tappello, che non lo decide l'Italia, non lo decide la Polizia, non lo decide la Regione, lo decide il commissariamento, il prefetto quando verificherà che su quel burrone forse la scelta è inevitabile. Se avverrà questo, noi ci stiamo e con il Polo di Innovazione, con questi giganti che stanno dentro il Polo della ricerca, un nuovo ragionamento con un piano industriale che abbia la capacità di una sostenibilità vera, perché noi ce la facciamo mantenere una cosa che ha 6 milioni di entrate, 6 milioni di uscite, 3 milioni di entrate. Questa cosa non se la fa, nel tempo si dirà ma allora si poteva fare, si potevano fare le manovre, si poteva 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 fare le manovre, però questo non si è fatto. E nel frattempo si arriva da questa situazione. Siccome la prima volta che sono avvenuto in manovre, io ho detto che mai avrei preso in giro nessuno, soprattutto chi sta in difficoltà, e cioè ipotizzando soluzioni di cui la Regione non dispone, anche non prendendo di cui non dispone, perché non ne può dispone. perché se ne potesse disporre, per noi questo potremmo dimostrare che faremo di tutto, fino a noi facciamo tutto ciò che ci ha conseguito la legge e anche di più. Però il di più, il di più, non è la soluzione che ho avuto a che tarci. Abbiamo un confronto con i Presidenti della Regione, abbiamo un confronto con il Ministero e i Ministeri competenti. E poi c'è un altro problema, che venne detto in occasione della riunione fatta da Regione con i capi di partimento, con le direzioni, eccetera, eccetera, se c'è qualcuno che lo ricordi, in quella direzione c'era l'allora diventore Crocco, che pose il tema, per quanto riguarda anche i rapporti, tra una struttura esterna e la sanità e il tema del commissariamento. Ci disse, guardate, che noi ogni spesa, diceva che la dottoressa, che ogni spesa noi non abbiamo più la possibilità di avere una gestione autonoma, perché fino a quando noi c'è un maledetto commissariamento, mi l'ha detto, lo dico io, mi l'ha detto, lo dico io, fino a quando c'è un commissariamento abbiamo zero spazi di manovra. Poi c'è la legge sull'affidamento, che è una cosa. Io non dico come si aggira la legge sull'affidamento, perché se c'è un ente di ricerca che lo fa su lui quella cosa, no? Si arriva ad un affidamento diretto, ma per farlo deve essere realizzato dal tavolo di monitoraggio, quale tavolo di monitoraggio oggi blocca qualunque tipo di iniziativa. Allora questa è la realtà. Poi i desiderati, io primo con i desiderati, prima in che sé, immaginatevi che possa rappresentare per me, per la regione, per il calcone, dire abbiamo risolto il maledetto sud, abbiamo messo in voi, abbiamo fatto quello che ho fatto. È chiaro che sarebbe un risultato straordinario, ma non tendo a che risolveremo il problema delle persone, che è la cosa importante, perché qualifichiamo la regione a Bruzzo avendo risolto il problema del maledetto. È una cartina attorno al sole, tant'è che io, poi parlerò col commissario, vogliamo ulteriormente accendere questi riflettori, dovremo portare le sparenze di Maroneca all'expo di Milano, troveremo un modo anche per raccontarla all'interno dell'iniziativa che faremo a Milano, perché lì si incrociano tante cose a Milano. In quei giorni c'è anche questo pescato, che non è la soluzione, ripeto, è il battagliamento che vogliamo fare fino a evitare se è possibile la liquidazione. Se non è possibile la liquidazione, si passa al piano B, che però c'è nell'ipotesi. C'è nell'ipotesi. È un piano B che però non può essere la fotografica monica, cioè la riedizione di tutto esattamente la struttura che c'è adesso, con i costi che ci sono adesso e con gli ordini che ci sono adesso. Questa è la verità unica senza arrampicarsi sugli specchi e senza affittare nessun tipo di scuse, di accampare scuse, ma dire esattamente così come sta la verità. Quindi per dire praticando che faremo, intanto ci riconvocheremo senza dare a questa convocazione chissà quale speranza, ma la consideriamo come un'aglione di lavoro. per non andare con le direzioni, con l'arte, con l'arte, per vedere se quel lavoro è stato fatto. Qualche stisforza la stiamo sbroccando. Penso che non ci sia molto ancora tempo da aspettare. Tra l'approvazione del mondo bilancio, che è il famoso 400 mila euro del credito bilancio, che sta ancora... Sì, però per i 400 mila euro l'ex presidente della Commissione di bilancio erano legate ad un'attività di verifica. Però poi l'abbiamo rimesso in bianco con l'ultima, con l'ultima... Sì, però erano legate ad un'attività di verifica di formi della FIA, che doveva fare, e man mano che queste somme si rendevano disponibili, potevano essere logate. Io vi posso garantire che ci abbiamo il malloppo di lettere rinviate, rinviate, sollicitate, perché poi la FIA non è che deve fare un proprio semplicissimo, per ogni settore, per ogni fuoco, deve fare un'attività di consumi, per poi... Io credo che stiamo in una fase avanzata adesso, in tutto questo tempo, per arrivare a finanziare tutti questi 400 mila euro, ma che non sono, ripeto, la soluzione dei grandi problemi che hanno commissato e chiedere di a tutti. Questo, quindi, noi ci possiamo ritenere una prima operativa con la regione Abruzzo e con delle pensioni e poi tutti gli altri passi necessari da fare. Stiamo tentando di studiare le istituzioni giuridiche che possano tenere, che ne so, si partecipano con una parte, diciamo che è a carico del Marietti, in qualche maniera si sostiene in modo differente, sono tutte ipotesi però di scuola che poi si scontrano e a volte perdono con le regole rigide che ci fa. dove potete si farmi in grado in grado in grado tra le cose che sono state dette, me lo diceva prima la professoressa, ci sono quei soldi che diceva, ci sono quei problemi che diceva il professore su questi 800 mila euro non possono essere su questi progetti non possono essere bloccati perché ci manca quella parte del finanziamento, c'è anche il problema che non può essere un nuovo fondazione, non può partecipare ad alcuni bandi proprio perché è fondazione e non è società per esempio. E questo tutti lo sanno, tutti lo sanno che ci sono dei bandi chiari e una delle prime poste che poi mi avete spiegato che sono andato a verificare è che ci sono dei bandi dove l'istituto giuridico societale o consortivo avrebbe dovuto partecipare e la fondazione no, la fondazione che è un accordo clamoroso cioè il centro del cuore con una polla febriare e oggi ci troviamo in questa situazione anche di impossibilità